è interessante anche proprio questo ultimo esempio perché tra l'altro anche qui rende molto evidente il fatto che chiaramente soprattutto in un settore in un'industria come quella nostra quindi lo sviluppo tecnologico da tempo si parla di felicità dei dipendenti, di come lavorare al meglio, le best practice, il lavoro di team, lo spirito di squadra mille cose che cerchiamo di portare avanti il più possibile sicuramente molto meglio di altri settori, di altri tipi di reparti in azienda, per cui anche la mia esperienza, però effettivamente un manager a un certo punto si rende conto che accontentare rendere felici tutti sempre in questo momento purtroppo è una pura utopia per alcuni non è facile da accettare perché magari uno cerca di costruire comunque un team che funziona con delle belle dinamiche però è naturale che ci siano delle cose che non funzionano qualcuno magari se ne va anche per questi motivi non va visto come un fallimento chiaro, se ci sono proprio cose come ambiente tossico, sì però il fatto è che effettivamente anche in funzione del lavoro da svolgere comunque qualche task meno piacevole ci sarà sempre qualche processo che non potrà mai funzionare al massimo ci sarà sempre quindi è una cosa di cui bisogna prendere atto chiaramente, come dicevi prima Kaizen, continuo e costante miglioramento si cerca di migliorare di automatizzare e così via però chi ha un ruolo manageriale questa è una parte che sicuramente deve rendersi conto che c'è quindi sarà impossibile accontentare rendere sempre felici tutti in tutti i modi quindi questo è un dato importante che hai raccontato mi fa molto piacere infatti avere anche una panoramica di quelle che sono cose che hanno funzionato meno bene è molto interessante anche proprio per questi aspetti qua grazie a tutti